Musica Buongiorno, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV Occhio ai giornali ritorna dopo le festività pasquali come sempre lo fa con i giornali che tra poco sfoglieremo insieme con i titoli delle notizie più importanti che daremo un'occhiata che vedremo sul nostro touchscreen tra poco Allora, oggi è martedì 29 di marzo e il santo di oggi è San Leonardo Murialdo è un sacerdote del 1800 che fece tante cose in Piemonte tantissime iniziative per la promozione umana e l'evangelizzazione cristiana morì il 30 marzo del 1900 ed è stato canonizzato da Paolo VI il sole è sorto alle 6.57 e tramonterà le 19.29 Vediamo adesso il tempo per la giornata di oggi oggi avremo un cielo poco nuvoloso con probabili velature nella seconda parte della giornata le temperature sono in aumento, i venti deboli avremo probabilmente tempo stabile sulla nostra regione almeno fino alla giornata di giovedì con temperature sostanzialmente stazionarie Allora, cominciamo a leggere i giornali e partiamo dalla notizia che riguarda una coppia di giovani che a un certo punto vanno in un ristorante a Pesaro chiedono dell'acqua e dopo aver sorseggiato dopo aver preso il primo mandato giù il primo sorso d'acqua sentono un gran fastidio, un gran bruciore e vengono immediatamente ricoverati in ospedale di questo ne parlano i tre quotidiani questa mattina partiamo noi dalla pagina del resto del Carlino con la foto dei due protagonisti, dei due giovani Luca e Pamela che sono stati ricoverati dopo aver bevuto in un pub e che hanno rischiato davvero grosso un errore umano chiaramente il locale è stato chiuso questa è la prima pagina del resto del Carlino di Pesaro entriamo dentro andiamo subito a leggere e a vedere la notizia il caso del giorno la soda caustica invece dell'acqua un sorso dice racconta uno dei ragazzi e non riuscivo più a parlare questo è il racconto serviti con quel veleno in un pub del centro storico Luca Bigonzi e Pamela Pedinelli e sopra le bottiglie qui le bottiglie di acqua minerale il locale è stato chiuso il magistrato procede per lesioni colpose quindi non un atto volontario ma dovuto ad un errore che però poteva davvero essere fatale qui c'è il racconto di quello che è successo sia a Pamela che a Luca Pamela dice ho urlato agli altri di non bere ma non ho fatto in tempo sono fuggita in bagno poi hanno chiamato l'ambulanza mentre Luca finalmente in ospedale sono riuscito a vomitare io ero a stomaco vuoto ho ancora dei dolori all'esofago ma racconta lui adesso con certamente un bel sospiro di sollievo passerà dice lui ecco questa è la notizia dicevo che troverete un po' su tutti e tre i giornali l'altra pagina invece andiamo su quella di Fano del resto del Carlino si parla della Pasqua Pasqua che è appena trascorsa Pasqua d'arte in città la cultura fa il pieno in 400 persone sono andate alla Rocca 110 hanno visitato il museo e ora ci sono anche i tedeschi insomma Stefano Marcheggiani il vice sindaco assessore della cultura parla di una percezione di un bel movimento in città sia sul lungomare sia in centro anche i ristoranti si sono riempiti Thomas Negusanti invece almeno 400 persone hanno visitato la Rocca nel fine settimana di cui 250 soltanto nella giornata di ieri ben 110 biglietti staccati invece come dicevamo ai musei civici poi l'allarma invece per quanto riguarda i furti che continuano c'è stato questo assalto nei giorni scorsi tentato furto anche in una erboristeria assegno invece al cimitero e nelle case dunque non si arresta l'ondata di furti che da qualche settimana allarma le famiglie e i commercianti sempre più spesso nel mirino dei banditi fuori strada scusate fiori sulla strada che si è portata via Filippo stiamo parlando del corridore del corridore di 44 anni morto durante una gara ciclistica Filippo Palazzi che è morto domenica 20 marzo per un infarto un ciclista di Fano scrive il resto di Carlino coniugato e con un figlio di 12 anni un mazzo di fiori e una grande fotografia nel tardo pomeriggio di sabato vigile di Pasqua sono stati posti dai familiari ecco il luogo sulla strada provinciale 10 a Savignano sul Rubicone nel punto esatto in cui Filippo Palazzi ha perso la vita l'altra pagina del resto del Carlino invece è da Orciano la voragine ancora è lì la vedete ancora come è messa la voragine di Orciano finisce in tribunale ultimatum del sindaco alla provincia a molti servizi e alla prefettura avete pochi giorni Bacchiocchi che il sindaco parla di un gesto eclatante sposterò l'ufficio l'ufficio del sindaco vicino alla frana così tutti quelli che verranno da me per parlarmi per incontrarmi eccetera eccetera vedranno vedranno qual è lo scempio qual è lo stato in cui si trova ancora questa strada che comunque lo ricordiamo è una strada importante di collegamento poi quando è successa insomma si è dovuto subito la prima cosa da fare è stata quella di ridisegnare tutta la viabilità del paese di Orciano perché appunto quella strada che è stata così interrotta improvvisamente da questa frana gigantesca ha dovuto far cambiare tutta la viabilità stradale allora servito detersivo invece di acqua questa è l'apertura invece del Corriere Adriatico di Pesaro il clamoroso errore in un ristorante manda due ventenni che si sentono male al primo sorso in ospedale una Pasqua di ansia e paura per due giovani a cena in un ristorante della città sorseggiando quella che doveva essere semplice acqua minerale prima lei Pamele poi Luca lui due amici ventenni si sono sentiti male è accaduto alle 21 di sabato e i fatti sono emersi nelle ore successive dai social network dove in tanti chiedevano cosa fosse successo e come stessero i due ragazzi colpiti appunto da Malore poi a Urbino anche a Urbino i ladri entrano in casa e rubano 8 mila euro i ladri a quanto pare non vanno in vacanza neppure a Pasqua le segnalazioni di furti infatti sono state registrate anche in questo ultimo fine settimana un colpo in un'abitazione è stato messo segno a Pieve di Cagna dove i ladri approfittando dell'assenza dei proprietari hanno rubato come dicevamo 8 mila euro e poi ancora da Fossombrone europei master il testimonial è chiaramente non poteva essere diversamente Ottaviani dunque ha preso il posto di Ottavio Missoni il pluricampione di atletica indoor quasi centenario Giuseppe Ottaviani da oggi testimonial del campionato europeo master in programma fino a domenica ad Ancona e così il portacolori dell'FB Fossombrone guidato dal professor Bacchiocchi anche lui presente alle gare come arbitro internazionale ereduce dal campionato italiano con due medaglie d'oro nel salto in lungo nei 60 metri piani e poi la mafia la mafia di cui si parla in questi giorni è un rischio reale anche per Fano l'assessore alla legalità segnala la sottovalutazione del problema la crisi la crisi canale di ingresso insomma è un problema davvero Mascherin dice i magistrati l'assessore alla legalità Mascherin dice i magistrati hanno ragione serve più consapevolezza da parte della politica e anche dei cittadini i fenomeni corruttivi si contrastano con maggiore trasparenza da qui parte una strategia per le marche l'appartamento di Sant'Orso invece alle giovani madri e questa è la scelta della tavola costituita dalle associazioni per il bene confiscato alla malavita nel quartiere Zavarise invece sempre a Fano assediati dal parcheggio selvaggio automobilista alla ricerca di un parcheggio che spesso non si trova ad anno dei residenti e quindi gli abitanti del quartiere Zavarise tornano a denunciare problemi di viabilità che si ripercuotono sulla vivibilità di chi risiede in quella zona ancora andiamo sulla pagina di Senigallia morto mentre tornava dalla famiglia domani l'addio a Emanuele Migatta di 42 anni la conducente dell'Apolo è stata denunciata per omicidio stradale a carico di questa 42enne di Iesi coinvolta nell'incidente costato la vita ad Esamuele non Emanuele Esamuele Esamuele Migatta nel tardo pomeriggio di sabato sul lungomare Mameli a Senigallia il primo caso dopo la recente introduzione della legge in cui appunto c'è questo primo caso in cui è stato applicato l'omicidio stradale in questo caso a carico di questa 42enne lui faceva il rappresentante di prodotti termoidraulici viveva con la moglie e il figlio in via Tiziano alla Cesanella di Senigallia Andiamo adesso invece per chiudere la resegna stampa sul messaggero la pagina di Pesaro apre con la sanità lista di attesa la prova funziona si avvicina la prima verifica l'esperimento affidato a Marche Nord pare procedere bene la fase pilota ricorda la visita molti rinunciano accorciando i tempi delle prenotazioni e quindi vedremo insomma come procede e se questo questo esperimento affidato a Marche Nord funzionerà appieno oppure oppure bisognerà cambiare qualche cosa centropagina la fotografia e la notizia di cronaca bevono detersivo al bar poi per evitare di investire un cane rischia di bruciare nell'auto un conducente si schianta ma riesce ad uscire prima che il mezzo prenda fuoco è vivo per miracolo è una storia di chi ha rischiato la pelle per salvare un cane è successo a Mondolfo la mattina di Pasquetta sulla strada di San Gervasio che sale da Ponterio verso Stacciola di San Costanzo alle 7 di ieri mattina e c'è il racconto che potrete leggere sul quotidiano il messaggero oggi in edicola mentre sotto qui di taglio basso Fano e Urbino arrivano i ministri Alfano e Giannino due ministri in visita in provincia presenzieranno a una serie di conferenze sulla scuola digitale e sulla sicurezza l'altra pagina che andiamo a leggere soltanto nel titolo sulle liste d'attesa l'esperimento dell'avviso Marche Nord tante rinunce la fase pilota praticamente si ricorda il paziente la visita imminente molti annunciano la disdetta accorciati i tempi degli altri questo è il titolo che richiama lo stesso titolo che sta sulla pagina principale anche qui vedete bevono detersivo al bar in due finiscono all'ospedale con gli amici hanno ordinato dell'acqua ma nella bottiglia era stato versato del liquido concentrato con soda caustica poi questa notizia che vi invito a leggere lo stesso anche perché abbiamo delle fotografie tra poco tra pochissimo perché ci segue in diretta tra qualche minuto la pubblicheremo anche sul sito internet un paracadutista una paracadutista una ragazza di 24 anni del canton Ticino in vacanza a Fano che si è buttata con il paracaduto e però qualcosa è andato storto ieri pomeriggio ed è finita praticamente sul tetto di una casa per lei soltanto tanta paura per fortuna è stata soccorsa poi portata a terra con la barella dai vigili del fuoco abbiamo delle fotografie che tra poco vi faremo vedere vi pubblicheremo sulla nostra pagina occhiolanotizia.it mi pare che possiamo fermarci qui non c'è non c'è altro e dunque vi vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il nostro telegiornale Occhio alla Notizia e per il resto vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento anche qui su Fano TV c'è tutta la programmazione che dopo la festività pasquale torna torna ad essere regolare quindi con tutti i suoi appuntamenti arrivederci a Autore dei sovrapposti